Ben risultato. Dieci anni di collegio dalle monache per poi accapigliarsi come due lavandaie. L'arbitro tenta di sedare la rissa, ma busca anche lui. Ben gli sta, in piccione. Ride il pelato. Riderebbe meno però se avesse una moglie come questa. Ecco che fine farebbe se osassero incasare tardi la sera. Questo si chiama tentare di spallare l'avversaria e se non ci si riesce ci si prova prendendo la rincorsa. Eh ma lei è un po' ingenua ragazza mia. L'arbitro invece sì che è un dritto, con la scusa di contare e pensate che lo pagano pure per fare questo.